A storie impossibili. Manuela ha un'azienda di sottoli e sottaceti e vorrebbe andare a Expo Milano 2015. Con i sottaceti. Te lo dico sottovoce? È impossibile. Invece no, perché Intesa San Paolo ci ospiterà nel suo spazio. Con i sottaceti. Con i sottaceti e con i sottoli che noi vendiamo in oltre 30 paesi nel mondo. Avevo sottovalutato i sottaceti. E i sottoli. E i sottoli. Sottinteso. Vogliamo dare più visibilità alle imprese italiane d'eccellenza. Per questo ne ospiteremo 400 a Expo Milano 2015.